Un applauso agli imbianchini, i campioni di questo bienio regular season In particolare un'intervista al Presidente Presidente, quanto avete speso per l'ingaggio di Carmelo Giancotti? Per Ciccio Como? Anche per lui Allora questi imbianchini dove possono arrivare alla fine di questi playoff? Possono arrivare... Alla vittoria finale Allora facciano in bocca al lupo a questi imbianchini Forza del Mada! Al Presidente!